Benvenuto sul nostro portale macfacile.ch, io sono Mirko e vi illustrerò una serie di nuovi gadget e accessori per i vostri smartphone, computer. In questa serie di video vi presenterò un nuovissimo Discovery Pable nato dal progetto di Kickstarter, da quest'anno acquistabile online anche in Swizzera. Pensavamo di farvi vedere le funzioni che ha con i dispositivi iOS, iPhone o Android. Inoltre vi faremo vedere dei semplici trucchetti per il vostro Mac, iPad, iPhone e molto altro. Restate sintonizzati, un abbraccio appassionato da Mirko.